Ok, non parte come prima, non è un'intro classica, questa qui E' un continuum, esatto Di conseguenza non c'è l'ho licita solita Nel frattempo che aspetto che lo riaccetti Gioco in locale ovviamente perché schiaccio e ci mette un quarto coro Rinvito, va bene, ti rinvito Molto macchinoso è questo menu perché ci mette una vita a fare questa animazione particolare E quindi parte subito perché io schiaccio Invece so che devo schiacciare e aspettare un attimo perché adesso si è caricato Ma prima no, l'avevo schiacciato e poi l'ho rischiacciato perché pensavo non l'avesse letto Invece l'avevo letto e come? Autenticazione Cosa deve autenticare? Arrivo e ce l'ho quasi fatta Niente, dopo un po' laikos mi stufa ragazzi Devo veramente prendere quella... Eh sì Sì Sono completamente d'accordo Io non la uso neanche più In che senso non la usi più? La sigaretta elettronica Eh, in che senso non la usi più? Cioè, ti ho visto, ti ho sentito spuppottartela prima Eh sì, vabbè, ma non ci sono attaccato tipo ciuccio Ok Chiuso Ah, posso Ma che roba, si è visto tutto il green screen? Sì Col fumo Non sono abituato Ok, avviamo Ah, io sempre lui Ormai Eh sì, ormai li abbiamo scelti Perfetto Però è molto più comodo la sigaretta elettronica Per questa occasione Sì, però fa un rumore fastidiosissimo Questo non l'hai contemplato Spero si senta l'audio Ok, alzo un pochino Magari È una questione di microfono Aspetta un attimo Ok, direzionamento Ok Abbiamo tutto aperto Perché ho spostato le cose Mi vedevate laggiù? Adesso mi vedete qui Ok, facciamo partire Arrivo Si sta scollando la cartina La cosa non mi piace Però va bene Andiamo Qua c'è un litigio Ma È ubriaco Private property Sì, è un bel posticino Una baraccopoli Delle favelas Praticamente Ah, guarda C'è la casa Di Stranger Things Uno con la mazza Salve signore Signora Beh, devo dire che le donne Sono amichevoli In questo luogo Eh, non Cosa ha fatto? Sono curioso Cosa ha fatto? E' un uomo Ha chiesto su me E nessuno chiesto su Martha Credo che non lo sa Buona luck Se hai visto lui E mi lascia Ti dirò Se vedo lui Pensare Ok Ok Puoi venire qua Ehm A fare cosa Sì Facciamolo Carino Sì Simpatica Eh niente Cosa ci facciamo sentire Eh, trofeo Trofeo Hai iniziato tu Eh, vedi Che è successo? Ma dai Ok Ok Genio Questo uomo Sì Sì Non sto dicendo che è il mio business Ma per quanto tempo hai stato accettato? Sei vero Non è nulla del tuo business E questo trucco ti va a uccidere Eh Se volevo una sermon Sì 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 Beh, devo dire che l'atmosfera è piacevole Ehm Ehi Ehi, cosa succede? Allora, va bene Allora, grazie Vai, fai del tuo peggio Vai, fai del tuo peggio Oh, signori 115 115 Si sfondano tutti i record Noo Maledetto Via 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 Noo L'ho mancata Vedo un 106 Ah, adesso 88 Cosa vuol dire? Che liscio Oh, bellissima Oh, bellissima questa Questa Anche questa E' inutile, sono imbattibile, Lori Non ce la fare mai A battere i miei record Vai, è liscio Via È finita Cosa sta succedendo? Perché vedo Ah, basta Finito I primi tre lanci, tipo Vai, invertiamoci Vediamo chi vince Quando si ferma Scusi Dai O li faccio io Certo Oh, ho Oh 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 Basta, finito Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ah, ah, ah Niente, Lori Eh sì, perché Quando si ferma Poi ti dice Quanto È mio figlio Figliuolo Figliuolo Ma Quello lì Sull'altalena È mio figlio È lui, no? Ho sbaglio Sono tutti uguali Questi bambini Non riesco a entrare Non riesco a entrare Lory Mi sa che non Non devi giocare a baseball Se no Non mi fa entrare Voglio fare un home run Ma l'hai fatto prima O no? Eh, questo è un home run A posto Ti ho sistemato il chiodo Voilà Oh, è lui il figlio Ok, sono tutti uguali Questi bambini Perfetto Andiamo di qua Come si passa? Ah, devo passare Mi servi tu Passa dentro l'oppicina Dai, dai Che c'è il bambino Che scappa Veloce, veloce Continuo a metterti fretta Perfetto Sembra giusto Ehi, Linda Allora Leo Ehi Subito Mamma mia Dei geni tra l'altro Che loro che vanno Dalla moglie Dalla figlia Dal figlio Incredibile Chissà dove potrebbero andare Due puggiaschi Da una prigione Afternoon, Matt Tutto è tutto Allora Che vuoi? Beh Molto interessante Mogliettina trovata bene Devo dire che Non è Non è una Skyler Di Breaking Bad E Alex lo vede un po' traumatizzato Però Non è molto Non è molto contento Lui è un bambino Per bene Ma Secondo me sì Sono arrabbiato Hai trovato? Sì 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 Grazie, signora. Hey. Linda, devo dire cosa sta succedendo. Sì, ma prima devi andare a parlare con Alex. Ovviamente. Hey. Hey. È una buona bicicletta. Grazie. Quindi, eh, quanto tempo hai conosciuto Leo? Un tempo, credo. Questo era un buon giorno. Quindi, eh, questo è un Hab Shaggy 57, certo? In realtà, questo è un 59. Nice. Un 59. È davvero bello. Sì, grazie. Convenientemente messi lì. Hey, Alex. Dove vai Alex? Questa casa è in una roulotte. Alex, dove vai? Ma lo lasci andare così in mezzo? Può giocare pure a freccetta. Ma il piccolo Alex. Comunque, che brutta vita che fai, caro mio. Ah, vuoi accendere... Beh. Fantastico. Trofeo guadagnato. Anch'io l'ho guadagnato. Questa. Aspetta. No! Difficile prendere la mira. No! Ho fatto 46. Vai alla casa sull'albero. Oh, la madonna. 25. Giustamente. Vediamo quanto farai. Sì. Io vado a fare cose emozionali nel frattempo. Mi hai battuto. Sei fortissimo. Bella però la casa sull'albero, devo dire. L'avrei voluta io quando ero bambino. Ma... È incazzato, è incazzato. Cosa è questo? Cosa è? Ehi, guarda, il tuo segno è bruciato. Cosa vuoi venire e aiutami a rinforzare? No? Ok. Non ti preoccupare, la rinforzare per te. Ah, vediamo. Credo che ho bisogno di un amore. Ok. Aggiustiamo questo paletto. Alex House. Ah, carino. Comunque, Alex, hai una casa migliore dei tuoi genitori, lasciatelo dire. Ah, sì. Qua che martellatore provetto che sono. È bellissimo. Alex, dovresti venire e guardarlo. Via, via. Non serve. Quanta tenerezza. Quanta emozione... Traspare la mia emozione, effettivamente. Perchè devi smontare tutto? Perchè devi smontare tutto? Perchè devi smontare tutto? Ah, sai che vado. Togli la colla. Eh, vabbè. Altri mini giochi che... Siamo pronti? Oh, siamo pronti. Let's go. Ok. Oh. Daddy, passa da me! Ah, tira con la X. Eh, ero convinto si passasse con la X. Cosa devo fare? Come intervengo? Che è successo? Mamma mia. Posso passarla? Non giochiamo col bambino. Cosa? E io vorrei passargliela. Vieni, piccolino. Vai! Dai, fai del tuo meglio. Ma cosa succede? Passagliela, Vincent. Non si passa. Cosa sta succedendo? La partita più brutta che io abbia mai visto. Non riesce a centrare. Ah, deve segnare il bambino. Beh, bel passaggio. Complimenti. No. Ma dove va questo? Vai, piccolo. Vai, piccolo. No. Vincenzo. Dai, gliela, Vincent. Guarda da dove? Ma dove che non segni? Vieni. Come hai fatto a prenderla tu? Che bello. Vai, fagliela prenderla. No! Gliela è fregata. Sei un mostro. Pallo. Dai. Eh. Aiuta, Alex. Oh, quanta poesia. Ok. Sì, Alex. Sì. Ok. Sei fortissimo, Alex. Sì. Sì. Devi diventare un pro. Sì. 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 Ok. Il nostro talento naturale è molto meglio da noi. È molto bello. È molto bello. È molto bello. Eh. Oh, guardate qui. Sì. 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 Alex, puttana miseria. Sì. 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 Vieni, andiamo a fare all'amore. Sì. 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 Intanto io... Sì. Io vado a fare all'amore. Sì. Il cobi Brian della situazione. Guardalo lì. Questo è quello che è. Questo... è la vita che abbiamo chiesto. Allora... Sì. Ma porca puttana, Alex. Sì. Sì. Passamela bene giù da Cristo. Oh. Bravo. Vieni. Oh. Avete fatto due scambi. Che bello. E niente. Linda. Meno male. Ray? Che vuoi con questo uffio? Oh. Così, sono vero che ho chiesto dove è conversationsi. Avevo il settore? Sì. Sì. L'uva lavorando a un altro loc Stradio in cui, in fondo. Sì. Sì. Si. I voglioしたi programsciare a lasciare il quale. Non preoccupi su quello che cosiddetto. Sì. Ci bella, io devo ho guardato qualcosa di più vicino. Io. No. Non solo lo faccio. Oh Quel ferro Ehi amico Tira fuori il ferro Mazza che è una Desert Eagle E cos'è una mazza orsi Oh la passione E qualcosa mi dice che questa è un'inquadratura alla Titanic Ma non credo sta entrando il bambino Come ho detto sei un vero pro Che pensi? Come si va amico Guarda Ho bisogno di lasciare ora E tu? Sì io do O tu guardi la mia mamma Allora? Possiamo giocare un altro gioco? Nel prossimo Basta Sei scarso bambino Il basket non è il tuo futuro Allora No Corio mom Ok Bene Perfetto Adretto di famiglia Questa città Popolatissima Sì Stile Vincent Senti io direi bluffa Eh Oh sì? E tu stai stoppendo? Tu dovresti scusare il mio collega Il non ha mai avuto il caffè di mattina Ma è vero Signore e signori La pronuncia Il chiudere il mio collega Il chiudere il mio collega Oh di chiudere il mio collega Una risposta Che cosa è con voi? I dimostrano Allora Comprate E Allora E Oh 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 Sceltissimi Ma siete dei geni Ma mettetevi sti caschetti Vabbè Lasciamo stare Ma perché lo butta per terra Ma perché Ma perché E' difficile stare dietro De questi sottotitoli però Mi rimbalzano da una parte all'altra Posso? E' effettivamente Puoi spegnere quel coso Vabbè però Ti dirò Ma perché Perché Vedi però io Con me parlano Ma parleranno anche con me spero So what's your job here? Oh I lift heavy shit man Until my back Breaks Sounds easy enough You're telling me Ma I'm going to be honest with you I'm looking for your foreman To beat his ass Really? Now that sounds like a great idea to me Right? You know where it is? Yeah Take the elevator It's further down l'elevator dove prende l'ascensore c'è qualcuno? non funziona non funziona un braccio di ferro facciamo un braccio di ferro facciamo un braccio di ferro via come non? buona scelta stai a scendere mio amico facciamo questo come si fa? ah così dai che vinco io maledetto è difficile è difficile maledizione sto facendo della fatica bestiale ce la fa e ce la fa ce la fa dai no questo ribaltone è terribile e dai non ce la faccio più sto cedendo sto cedendo non mollerò e invece mollo ma non mollerò non sto mollando non si molla un cazzo no è terribile sono sensibilmente provato in questo momento sto faticando è terribile dai sto facendo questo no vuoi che vedete faccio guarda come ah non ce la faccio più mollo mollo ho mollato ah il mio ditino è morto ah che male fin ah ah ma hai più ma come in genere rivincita aspetta voglio parlare con lui ma lo sappiamo già no c'ha ragione scusami andiamo dai io il dittino l'ho perso praticamente simpatico lui oh shit si no 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 queste cose andiamo dai dai ma scende questa cosa non vedo per nulla ah ok sale dalla scaletta a pioli arrivo maledetto schifoso tieni botta tieni botta mazzau corre velocissimo dove vado grazie gioco ci avrei messo un'ora a capirlo sto cadendo sto cadendo dai ma l'ho appena fatto sono provato ok ci arrivo leo mi ha scoperto è tutto il tuo inizio scusami io lo vedo tu sei tu sei guarda oh comunque adesso i tasti li schiaccio con un vigore disumano stai stendendo in giro si si vai 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 ce lo faccio io sono sopra l'ascensore suo si anch'io eccovi la sopra si parla da sopra no ci sei sceso tu quindi è una caccia all'uomo adesso quanto è sicuro fare questa cosa quanto io non la farei mai nella vita reale è una cosa del genere adesso ho quadrato mi vedo in difficoltà si 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 no 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 non me lo dà devi farla prima prima te l'azione ah si 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 sta nascondendo da qualche parte chissà dove sarà qua non si va la sopra ci sono citazioni a foto storiche è qua arrivo e corri e vabbè a passeggia c'è una via alternativa aiutami a sfondarla eh no a posto arrivo aiutami a sfondarla aspetta stavo solo guardando se c'era una via alternativa andiamo ah scusa mi stavo grattando porco cane un casino in che modo ah così vabbè a quanto pare ma è proprio convenientissima la presina che c'è qui non me lo fa fare ok ora si ah devi tenerla più bassa ma è proprio così non potevi appenderti come hai fatto col gancio dentro la fattoria l'ho rinserata che quello scappa bello tranquillo mi devi piazzare poi lì sopra perfetto eh ci ho messo un'ora a farmi salire guarda 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 è ormai un fenomeno è ormai un fenomeno è ormai un fenomeno a metterti in quella posizione davvero un genio quanto perché questo rischio perché lo stai raggiungendo con una gru in movimento perché ti sei complicato la vita da solo vai che ce la fai lo prendi lo prendi dai dai manca poco vai bravissimo perché sto andando avanti io resisti no dai dai un po' più di velocità ok ah eh niente si è finito ma si è toffato tantissimo questa visuale dall'alto non vedo niente io mi sono incastrato sulle cose ma di qua no si bravo ah devo prima holdare perché mi diceva premi rapidamente invece lo diceva a te oh l'abbiamo preso finalmente no no ma questa fuga roccambolesca c'è un po' più di cose che potrebbero fare questo ragazzo parlare cosa vuoi dire? ragazzi come on ho alcune idee me anche vediamo se potrebbero parlare o non aspetta leo leo Ma la porta cosa fa? La porta a foglio La porta si la torcia Si sono pazzo Non ho una pistola ma sono pazzo No No Lo volevo Ok Almeno non scappa più Ottimo Usiamo un portafogli Tranquillo 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 Sì Onde stai? Non mi lasciami qui Tu stai stupendo Non mi attraverso Ragazzi Vieni Cosa stai facendo? Spaccano fuori un vetro Aspetta, passate Cosa fare? Ecco Sì, sì Sì Beh, comunque non sono degli stinchi di santo Beh, no, effettivamente no Effettivamente facevano compravendite illegali di gioielli Esattamente O magari no Bene Facciamo un'area Non era illegale, effettivamente Lei Sì Non sono mai usato di Harvey Con una copia Sì Beh, beh Credo che c'è solo un modo per cercare Ok? Sei pronti? Sì, per se non me lo diam Cosa ci vuoi? Sì 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 Hai Ne ho bisogno di mantenere un profilo descontro Non è proprio il tema Dio che facciamo questo la prima volta Solo in e poi Dio che facciamo questo la forma facile Non ci vuoi non fare una scena Ebbè figurati Immagino Una pistola in mano ad Alessio Ottimo Vabbè non sarò così So che non ucciderò nessuno Vabbè però ok Saboto il telefono Non ci sono soldi Dove è il telefono? Non c'è il telefono Vabbè E Vincent Deve essere un telefono qui Dobbiamo guardarla Signora Ah non gli posso Aspetta Si fermi signora Ah posso intervenire Dietro No L'hai sabotato il telefono Occhio alla donna Occhio alla donna Signora 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 per favore Eh Anche lei Una spacca Spaccabestia Non è vero che non ce l'hai Non mi fai fare qualcosa Che mi faccio Dimi la combinazione Ok 1 3 7 1 3 7 1 3 7 Grazie Oh perfetto Non erano sti gran soldoni Però Andiamo 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 Così Sfonto una porta aperta Andiamo Andiamo Devo dire che questi proiettili Trovano che è una bellezza Grande patria America Cosa fai Ma scendi pure C'è da rivedere La polizia Di questo posto Non bagli tutto il gioco Dice No problem Just make sure To bring the girls Ok Yeah I know All right All right See there Ciao porti Bene Bene I'm sorry Vincent It's not good for your heart My heart is just fine I just wanted to know what we're dealing with Relax Mr. Paranoid I trust her Dice Inoltre, lei mi ha dato una. Ora andiamo a prendere queste scuole, se lo dici. Sì, sì, molto settanteggiante. Ma perché sei così ostile? Ah, ok. Ma ora è tutto più chiaro. Ho un problema con te, hai un problema con me? Sì. ... ... ... Chi è questo? Prendiamo queste scuole e non mi accaderemo a qua non c'è tempo. Ok? Ok Jasmine? Ah, ci forniva l'arsenale. Allora, scegliamoci le armi. Oddio, colpo singolo mi piace. A cosa devo sparare? R1 ricarico. Perfetto. Dicevi che volevi sparare? È diventato un GTA Moment. Ci sono dei bersagli. Sì che ci sono dei bersagli. Non sono buono io. Ok, ricarico così. Sto correndo come un matto. Non so perché. Non glielo ho detto io. Ma adesso che ha un fucile lui corre. Non so perché. Non esiste la calma. Se c'è solo la velocità. È diventato Dark Souls. Scusami, io sono impegnato a rullare in giro. Carino, dai. Parti quando sei pronto? Vattene. Non è male la tua arma, in effetti. Mi scusi, sono qui da una mezz'oretta più o meno. Secondo me ti conviene l'M16. Tu dici? Andiamo sull'M16 allora. Da expertise. Ho un bel pompa. Ci abbiamo tutti e due da ravvicinato. Secondo me l'M16 e mezzo. Eh, andiamo con l'M16. Fammelo vedere però. Eh, ma scula... Rincula da matti. No, 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 no. Mi prendo il pompa, piuttosto. Ho ripreso l'M16, giustamente, perché i controlli sono quelli che sono. Ok. Dai. Eh, via. Shotgun. Beh, tu ti trovi bene. Sì. Andiamo. Eh, provi a tirare questa balla. Ah, così devi fare. Vabbè. Possiamo andare. Dai. Aspetta. Vai. Colpisce le bottiglie? Girati. Non me, le bottiglie. Vai. Non me, le bottiglie. Oh, grazie. No. Vado. Vado. Non c'è un po' di automira, in effetti. No, sono io. Sei tu. Sei bellissimo, allora. Ammazza. Appena lo sbagli, tocca a me. Vai. Voglio provare anch'io. Ecco il cucinapompa. Eh, voglio provare se funziona. Vado. Sì. Vai. Io già sono storto pesantemente. L'ho presa. Presa. Si vede che faccio schifo, eh. Nei spara tutto. Penso... Abbiamo già capito chi gioca e gli spara tutto. Esatto. Andiamo, va. Riprendo l'M14, mi piace. Colpo singolo, ma... Sì. Super preciso. Abbiamo fatto un danno dalla madonna. Sono contento che si spari. Io no, però va bene. E questo? Fa l'infame? Secondo me fa l'infame, Ale. Vorrei proprio di sì. Che strano. E questo chi è? Eh, sarà un... Un uomo del cattivo. Ah, sì. Adesso ci divertiamo. Ah, questa è la moglie. Sì. Ma l'andrà a trovare, dici? L'altra. Sta partorendo, dai, però. Che sfiga. Adesso c'è lui. Sì, appare così da dietro. Anche lui è Italo-Americano. Sì. 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 Puoi stoprire l'applicazione del telefono qua qua? Sei sicuro che puoi usare un avvento? Sì, spero di sì. Sì, me anche, man. Non voglio andare a Mexico. Beh, c'è il tuo telefono. Sì. Io mi vado a vedere Gaspacho. Sì, sicuro di usare questo telefono. Io ancora non ho nessuno. Non ho le monete. Non ho le monete. Non ho le monete. Cosa ha detto? Non ho letto. All'edicola posso trovare delle monete? La guerra, man. Mi f***a. Sì, veramente? O rubarle un barbone. Cosa c'è qua dietro? Vedi la guerra? C'è un... Ravietta. Sta cercando di scassinare... Scusi lei. Va bene. Ho fatto del bene. Cos'hai fatto? Ho scambiato dieci centesimi per un dollaro. Ho scambiato dieci centesimi per un dollaro. Ach... E dove le hai trovati... Dove le hai trovato il dollaro? Ring ring... Ecco sì. Io suono il campanello. L'hai sentito? I need to fly somewhere Uh, tomorrow Can you make that work? Okay, great What? When? Where is she? Okay Okay, okay Thanks Yeah, she's a little girl Hey, you got this plane? Yeah, yeah I did But I need to go What? What are you talking about? You okay? I'm fine But I need to be somewhere else right now Hey, you can't just walk away I'm not walking away But something happened and I need to be there Alright? Vincent 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 We're coming too far to back down now You need to talk to me Tell me what's going on in your head Talk to me E dimmelo Oh cazzo Eh, adesso è attentatone Guarda, questo ha l'aria di essere uno cattivissimo È arrivato Keanu Reeves Keanu Reeves Dopo un anno sotto un ponte A coltivare rancore Ok E' la mia wife Oh cazzo Oh cazzo Questi silenziatori Cazzo Che mira Ma che cosa è che ho fatto? Oh cazzo E le armi? Nell'auto Grazie che mi rispondi Siamo arrivati, vabbè, sì? Quick, vieni qui! Leo, aiutami a barricare questa porta, vabbè! Eh, ok, ok, a posto. Ho fatto una roba che avrei dovuto fare in un altro momento. A posto, però devo dire che l'hai tenuta bene. Ti sposto la barchetta. Si è incazzatissimo. Vai, vai! Arrivo. Guarda quello intanto. Sì. Ma adesso entra. Infatti, ho preso l'ascia. Wendy? Sì. È un po', sai che? Forse è una citazione. Ah, devo premere rapidamente, benissimo. Vabbè, però, rimettetela a posto così non capisce da dove siete andati. Non l'ho visto entrare. Non lo stavo guardando. Perfetto. Oh, ok. Ci dobbiamo solo riparare. Ah, così va bene. Bravo, continua. Ma quanti proiettili hai? Con un teatro di fondo Ah così Vai 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 Lori Vai 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 Cazzo Tendi un'imboscata Arrivo Arrivo Sì vabbè ma come fate a essere vivi Dovrò schiacciare rapidamente a quadrato Già lo so Siete spietati Dai Lori Io ci sono Anch'io Ok Mamma mia Dovevamo fare braccio di ferro Esatto Ci ha provato Patonna Guarda Guarda Non so Non so Cosa sta succedendo Ma Dobbiamo Acrescerminare Cosa abbiamo iniziato Harvey Sì 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 Perché Sì 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 It's my wife She's in the hospital What's the problem? We just had a baby That's great news Tanner Grats man Sure It's great Thanks You don't seem too happy about it Trust me I'm happy It's just It's really complicated Between me and my wife Look Complicated or not You gotta go see a kid Whatever's going on Between you two Still your kid I know You're right Of course I am You know I am Yeah Look You got us that plane Didn't you? I did Here's what we're gonna do We're gonna go to the hospital You're gonna see your kid And then we go get that plane You with me? Yeah I'm with you Vincent I need to trust you on this You can trust me All right then Let's go Bene Bene You know I could tell it was your first kid You could Yeah Back at the hospital The way you were holding your baby and shit Ah Ci sono stati alla fine Ah Ci sono stati alla fine Ah Non mi chiedo in un certo modo Sì Sì In ogni modo È una buona cosa Guardare il tuo figlio crescere Sì Sì I can imagine It is What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look Carol is the love of my life We've always wanted to have a child We tried for years Every time we failed It was like a part of us died And when it finally happened That day when we found out We've never been so happy Then Everything went to hell And I ended up in prison Damn Yeah Non ho una storia felice per lui Ha infatti Dovremo fare una roba steltissima Sicuro Qui ci saranno le guardie Ad aspettarci Anche secondo me Lori Forse è ora Di staccare? Sì Sei stanco? Non gli dire cose Sì Lori Ti dirò di sì Va bene E ragazzi Grazie di esserci stati Grazie a chi è passato Grazie a chi Recupererà questa live È stato un piacere Per noi Spero anche per voi E Buonanotte Grazie di esserci stati Grazie a chi ci sarà Ci rivediamo Alla prossima live Ciao ragazzi Grazie a chi è